in comunicazione col vostro spirito. Durante la mia vita mortale vi ho dato alcune ossa che aveva sottratte al gabinetto anatomico di Pavia e tra le quali vi era una rotella di ginocchio che ha appartenuto al corpo di un ex inserviente dell'università che si chiamava Pietro Mariani e di cui io aveva sezionato arbitrariamente il cadavere. Sono ora undici anni che egli mette alla tortura il mio spirito per riavere quell'ossicino inconcludente. Ne cessa di rimproverarmi amaramente quell'atto, di minacciarmi e di insistere per la restituzione della sua rotella. Ve ne scongiuro per la memoria forse non ingrata che avrete serbato di me. Se voi la conservate tuttora restituitegliela, scioglietemi da questo debito tormentoso. Io farò venire a voi in questo momento lo spirito del Mariani. Rispondete. Atterrito da quella rivelazione io risposi che conservava di fatto quella sciagurata rotella e che era felice di poterla restituire al suo proprietario legittimo che non vessendo altra via mandasse da me il Mariani. Ciò detto, o dirò meglio pensato, sentì la mia persona come alleggerita, il mio braccio più libero, la mia mano non più ingranchita come di anzi e compresi in una parola che lo spirito del dottore era partito.